Grandi ragazzi bentornati qui nella cucina per tutti. Nell'appuntamento di oggi faremo un ragù di cervo tagliato al coltello davvero davvero molto buono. Visto che siamo stati purtroppo imprigionati questi due mesi e mezzo abbondanti per via della quarantena e ci stiamo accingendo quindi a trascorrere le nostre vacanze al mare ma anche in montagna, proprio perché andremo in montagna, vorremmo concentrarci oggi su una ricetta a base proprio di carne, di selvaggina, in questo caso di cervo come abbiamo detto prima. Quindi se siamo curiosi di vedere come fare questo ottimo sugo mettiamoci al lavoro, prendiamo nota perché i fornelli ci aspettano. Allora elenchiamo subito gli ingredienti per realizzare questo berrago di cervo tagliato al coltello. Ci serviranno ovviamente 500 grammi di polpa di cervo. Se non avete un amico cacciatore o contadino potete procurarvi questa carne in un supermercato ben rifornito, in genere la trovate nel reparto surgelati. 700 grammi di polpa o di passate di pomodoro come più preferite, una cipolla, una carota, uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino, due foglioline di menta, poi un pochino di alloro, qualche bacca di ginepro e poi troviamo due bicchieri di vino. Vediamo perché li ho divisi. Continuiamo con la preparazione del sugo e vediamo quindi come realizzarlo. La prima cosa da fare è far marinare per circa un'ora la carne nel vino. È una carne già pronta all'uso perché è già stata privata del suo sapore forte. Io prendo un cucchiaio come potete vedere, stendo un pochino la carne in questo modo e vado a mettere il bicchiere di vino nel piatto dove è contenuta la carne e lascio come abbiamo detto marinare per un'oretta. Trascorso il tempo necessario per la marinatura della carne facciamo questo procedimento. Io mi sono preparato una scodella con un colino, andiamo a prendere la carne che già aveva un bel colore scuro, ha preso anche colore ovviamente con il vino e la andiamo a riporre proprio nel colino a scolare. Una volta completata l'operazione andiamo a eliminare quindi a buttare via il vino perché ovviamente non è più buono e lasciamo scolare per qualche minuto, dopodiché prendiamo un tagliere e cominciamo a creare i pezzettini. Bene, dopo aver fatto questi due processi necessari per insaporire la carne e dargli un miglior profumo una volta che è pronto il sugo, noi prendiamo la carne e come potete notare ci troviamo comunque con delle parti che magari potrebbero risultare dure una volta pronto il ragù. Quindi noi le andiamo proprio ad eliminare. Ecco come vedete queste parti nervose noi le andiamo a eliminare perché non vogliamo un brutto risultato in bocca quando andremo a mangiare la pasta ma vorremmo un risultato abbastanza morbido. Quindi armiamoci un po' di pazienza, prendiamo tutti i bocconcini e andiamo a eliminare tutte queste parti e possiamo cominciare a creare questo ragù tagliato al coltello. Io vi consiglio di tagliare la carne di questa grandezza, vi permetterà di avere un risultato più rustico ma anche abbastanza semplice da cuocere come se fosse un macinato di manzo o di suino. Guardate che bel taglio al coltello che stiamo facendo, questo ci permetterà di ottenere un ragù più rustico, più verace. Continuiamo. Ok abbiamo tagliato tutti i bocconcini, li abbiamo tagliati grossolanamente, ora ci prepariamo un altro tagliere dove andremo a creare le verdure per il soffritto. Eccoci con le verdure. Allora per prima cosa l'aglio lo lasceremo intero e lo facciamo in camicia. Intanto l'abbiamo già fatto e lo mettiamo da parte. Togliamo sia dalla cipolla che dalla carota tutte le parti non commestibili e le andiamo a pulire. Andiamo avanti con la carota. Ok e dopo aver creato questo bel trito possiamo prendere una casseruola e cominciare la cottura. Eccoci ai fornelli con una bella casseruola capiente. Andiamo ad accendere il fuoco, giro d'olio abbondante. Ora che l'olio è caldo andiamo a buttarci il trito e l'aglio in camicia. Lasciamo rosolare per bene e possiamo poi inserire la carne. Prima di mettere la carne vado ad eliminare l'aglio ed ecco che è arrivato il momento di mettere la nostra carne di cervo. Mettiamo subito una bella presa di sale e cominciamo a rosolare la carne. Teniamo a fuoco vivo affinché i liquidi presenti nella carne possano subito evaporare. Ok la carne ha rosolato per bene. Vi ricordate che avevamo un altro bicchiere di vino? Glielo andiamo a inserire tutto quanto. Teniamo sempre a fuoco vivo e lasciamo evaporare l'alcol. Dopo che l'alcol è evaporato andiamo a mettere un pochino di pepe e la nostra salsa di pomodoro. Mettiamo un'altra bella presa di sale, abbassiamo il fuoco, diamo una bella girata e poi copriamo. copriamo e lasciamo andare così per circa tre quarti d'ora. Non mettiamo subito le spezie ma nel frattempo ce le andiamo a preparare. Mi sono preparato un tagliere, ho trasferito le bacche di ginepro sopra. Prendiamo il rosmarino, le foglioline di menta e andiamo a creare anche in questo caso un bel trito. Io in genere non lo lascio grossolano il ginepro perché può non piacere. Di conseguenza crea un trito proprio con le altre spezie. Ok abbiamo creato questo bel trito di spezie ora attendiamo il termine dei primi tre quarti d'ora di cottura del sugo, del ragù e poi possiamo andarlo a insaporire con le spezie. I primi 45 minuti di cottura sono trascorsi, noi l'abbiamo fatto andare a fuoco lento. Ho preso le spezie e le sono andate a inserire proprio all'interno del sugo. Mescoliamo e richiudiamo. Facciamo andare sempre a fuoco basso per un'altra ora. Il sugo sta ormai andando da circa un'ora e 45 minuti. Io ho tolto il coperchio perché andrò a inserire mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio e mezzo cucchiaino di zucchero. Non vi preoccupate se crea questa schiuma ovviamente è il bicarbonato che va a mischiarsi con il pomodoro. Il bicarbonato permetterà di togliere una parte di acidità al pomodoro mentre lo zucchero conferirà una parte di dolcezza. E dopo quest'operazione andiamo a chiudere nuovamente col coperchio e facciamo l'ultima parte di cottura ovvero i restanti 45 minuti. Dopo due ore e mezzo di cottura abbiamo spento il nostro ragù di cervo. Intanto vi faccio vedere con i pezzettini come abbiamo reso questo sugo ben rustico. Mettiamo sull'acqua della pasta a bollire. Intanto ragazzi vi faccio vedere queste tagliatelle che ho fatto a mano oggi. Saranno però le protagoniste della videoricetta in pillole. Ormai sapete la mia rubrica che faccio da un po' di tempo. In pillole della cucina per tutti metterò la videoricetta in breve di queste tagliatelle fatte a mano. Intanto aspettiamo che l'acqua bolle e possiamo poi buttarle. L'acqua bolle quindi mettiamo il sale e possiamo finalmente buttare alle tagliatelle. La pasta è cotta spegniamo il fuoco scoliamo e facciamo l'impiattamento. Dopo aver scolato la pasta mettiamo il pomodoro. Ho preparato un piatto con del pepe dove andrò al suo interno a mettere le tagliatelle con il ragù di cervo. Mettiamo sopra anche un po' di condimento. Delle foglioline di menta. E come vedete ragazzi il piatto è pronto. Possiamo andare a fare la prova dell'assaggio. Allora ragazzi siamo giunti finalmente al termine di questa buonissima preparazione. Mi raccomando prima ve l'ho detto seguitemi perché martedì metterò anche nelle pillole della cucina per tutti proprio le tagliatelle fatte in casa con cui ora andremo a gustare questo buon sugo. Intanto come vedete la tavola è imbandita perché sono venuti degli amici a trovarmi perché volevano gustarsi questo cibo. Però mi hanno detto assaggialo prima tu perché non ci fidiamo. Vabbè lasciamo perdere assaggiamo. Allora togliamo un pochino la menta mescoliamo un pochino guardate che bel sugo rustico che bel ragù rustico che abbiamo fatto al coltello. Andiamo ad assaggiare. Allora sentiamo un po' che profuma tantissimo eh. Ragazzi non me lo racconto dovete provare a farlo perché altrimenti non potete sapere che tipo di sapore ha questo ragù. È buonissimo. Allora mi raccomando seguitemi sui social in particolare su Instagram. Mettete un bel like, lasciate dei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima videoricetta che sarà proprio come abbiamo detto prima questa bella tagliatella fatta in casa. Dalla Cucina per Tutti e da Chef Fabio ci vediamo alla prossima videoricetta. Io nel mentre essendo che è ora di cena lascio i miei amici di là che stanno aspettando. Io mi vado a finire questo buon ragù. Ciao ciao!